Musica Alle sofferenze, alle articolazioni, alla chirurgia ortopedica, in particolare quella protesica, mini-invasiva dell'anca, bilaterale contestuale, cioè in un sol tempo, tutte e due le anche, e con accesso anteriore. Un tipo di intervento con tutte queste caratteristiche di recente, utilizzato di recente in Italia. Allora, torno da Francesco, innanzitutto perché si chiama, sulle riviste si legge Bichini, intervento Bichini, chi è il paziente ideale, quando si fa, quando il chirurgo decide che si può fare la chirurgia bilaterale dell'anca in un sol tempo? Sì, allora, buongiorno ancora. Dunque, l'accesso Bichini, in effetti, è una via di accesso chirurgica complementare alla via di accesso anteriore, che è quella via di accesso mini-invasiva che ne usiamo da già diversi anni, di cui siamo stati appunto nominati centro pilota per questa via di accesso e quindi per un eventuale learning di chirurghi esterni alla nostra struttura. Siamo lì appunto ad insegnare questo accesso che per noi è un accesso che conduce a grossi risultati clinici e funzionali. L'accesso Bichini è una via di accesso trasformata, diciamo, in una via di accesso inguinale, per cui Bichini si chiama proprio perché il paziente, anche indossando il Bichini, diciamo la via chirurgica rimane invisibile, perché veramente... Sì, qualche centimetro, è proprio all'interno della piega inguinale, quindi è proprio una scossa al 100%. Il paziente ideale per questa via di accesso è sicuramente un paziente non muscoloso, un paziente preferibilmente donna, con una patologia artrosica dell'anca, senza grossissime difficoltà tecniche, come le anche protruse, come le anche displasiche, dove si preferisce una via di accesso un po' tradizionale rispetto a questa via di accesso anteriore. Sulla via di accesso anteriore noi praticiamo anche la revisione chirurgica, nel senso che riprotesizziamo i pazienti, perché è una via di accesso che ci garantisce quasi un'assenza di difetti o di esiti cicatrizziali, per cui si riesce a reintervenire senza una grossa difficoltà rispetto alle vie di accesso tradizionali. Quindi il paziente donna, abbiamo detto, è magro, è vero, un paziente magro, magra. Anche nel paziente un po' obeso la via di accesso la stiamo poi indicando anche a più persone, perché poi con l'esperienza riesce anche ad operare persone che all'inizio sono proscritte queste vie di accesso. Il muscoloso invece è un paziente che è magari un po' meno indicato, perché noi con la via di accesso anteriore passiamo attraverso, o meglio fra un muscolo e l'altro, quindi evitando di disinserire, tende, di distaccare muscoli che porterebbero a ematomi, porterebbero a difficoltà di dolore post-operatore e quindi a ritardi nel recupero articolare. Sì, ecco qui vediamo appunto in questo fumetto… Sì, questa è appunto l'incisola della capsula, poi la via di accesso anteriore è una via di accesso che predispone pochissimo alle lussazioni dell'impianto. Quando si fanno… Ecco, glielo stavo chiedendo, quindi diciamo che questa chirurgia protesica dell'anca bilaterale in contemporanea viene definita anche tecnica mini-invasiva, l'abbiamo spiegato. Certo. Ecco, quali sono i vantaggi, lei lo stava accennando già adesso, per il paziente, i tempi di guarigione, il ritorno al lavoro della persona, ma anche i vantaggi per il sistema sanitario? Beh, sicuramente la via di accesso anteriore è una via di accesso che non presume un grosso… Qui vediamo lei con la sua equip, è vero? Sì, stiamo operando alla clinica Salus un paziente con una via di accesso anteriore con l'utilizzo di un lettino particolare che serve per lussare l'anca, l'articolazione, durante l'intervento. E dicevo che la via di accesso anteriore è una via di accesso che evita l'utilizzo di trasfusioni, evita dei grossi ricoveri per parecchi giorni, diciamo noi in massimo in terza giornata dimettiamo, quindi ci sono dei risparmi dal punto di vista della spesa sanitaria. Ecco, qui vediamo, cosa vediamo? Qui stiamo vedendo appunto l'incisione della capsula, prima di lussare il femore. E quindi si asporta… Esatto, questa è la lussazione del femore, vedete le leve che sono messe tra i muscoli, non viene disinserito nulla, questa è l'asportazione della testa del femore. Quella che poi viene sostituita? Sostituita con l'impianto propesico. Sì, sì. Poi se l'accesso può essere così mininvasivo possiamo anche utilizzare una bilaterale simultanea. Che vuol dire? Quando il paziente è affetto da una coccasartrosi anchilosante bilaterale, ed è un paziente privo di comorbidità, cioè privo di patologie tipo il diabete, tipo alcune ipertensioni maligne o tipo delle cardiopatie, noi proponiamo questo accesso bilaterale in simultanea dove il paziente in un sol tempo chirurgico risolve appunto le problematiche anatomiche del suo ovo. Ecco, un fumetto molto eloquente diciamo, fatto molto bene dagli americani. Facciamo la stiotomia del collo femorale, poi esponiamo il cotile, queste sono le leve che si mettono, ecco la cavità del cotile dove si articola la testa del femore, si prepara con delle frese, si gratta tra virgolette la cartilagine, si impianta il cotile, il metal back del cotile, questo è l'inserto in polietilene. Tutto è estremamente personalizzato, è vero? Sì, certo. Cioè non è generale per tutti? No, no, assolutamente. Noi prima di fare questa chirurgia misuriamo attentamente le dimensioni dello stelo, le dimensioni del cotile e anche il posizionamento dell'impianto, perché poi se tu posizioni l'impianto in maniera un po' particolare puoi rischiare una russazione, anche se per via anteriore è molto difficoltoso. Questa appunto è l'esposizione del femore, si prepara il canale femorale e poi vengono inserite delle raspe per fare spazio poi all'impianto definitivo. Sì, ecco e veniamo ad un altro aspetto importante, dicevamo nei titoli ma anche nell'apertura, l'accesso anteriore all'anca. Chirurgicamente viene approcciato, lo sappiamo, anche lateralmente o posteriormente, poi i chirurghi poi scegliete la strada migliore. Ecco perché quell'anteriore finisce alla fine per presentare ulteriori vantaggi, oltre a quelli già elencati. Certo, l'accesso laterale diretto, che è quello che facevamo noi prima di essere proprio speditamente favorevoli a questa via di accesso anteriore, è una via di accesso dove si presume la disinserzione di alcuni componenti muscolari. La via di accesso posterolaterale è un'altra via di accesso dove devi disinserire per forza delle strutture muscolotendine per farti spazio e arrivare all'articolazione. Quindi ci sono più danni scheletrici anatomici che presumono che poi il paziente abbia una certa sofferenza nel postoperatorio, che possa andare incontro a trasfusioni per perdi tematiche. E quindi tutto questo poteva complicare un recupero veloce del paziente. La via di accesso anteriore invece passa fra un muscolo e l'altro. La leva superiore solleva il sartorio, quella inferiore tiene il tensore della fascia latae e si arriva immediatamente all'anca senza dover disinserire o fare delle manovre. Quindi muscoli che restano integri. Integri, non si tocca nulla. Vengono semplicemente spostati da queste leve. Esatto, si arriva all'articolazione col dito. Il chirurgo si fa spazio fra i muscoli e toccando il femore poi mette le leve, come vedete in questo fumetto, per poi fare spazio alla sega e altri strumenti per procedere poi all'impianto della protesi. Quindi i vantaggi sono nell'integrità rispettata dei muscoli e dei nervi. Tutte le strutture muscolari, quindi assenza di dolore post-operatorio, assenza di ematomi. Velocità anche nel recupero. Velocità nel recupero. Il giorno dopo il paziente si alza e cammina senza grosse difficoltà, recupero con il massimo in terza giornata, quarta, il paziente va a casa, farà un po' di fisioterapia assistita a domicilio, impara a camminare già in reparto, quindi il paziente già è autonomo, ha un paio di settimane alla rimozione dei punti, il paziente può rimuovere anche il bastone, eventualmente togliere la fascia elastica, eccetera. Ecco, questa è una parte molto interessante che molti ci hanno chiesto attraverso via e-mail, ricordiamo sempre il nostro indirizzo, infochiocciolacotidianomedicina.it. Restiamo sull'intervento, ecco, come si articola, ecco, con quale degenza, con quale preparazione, è interessante questo, la degenza in ospedale e poi i tempi di recupero, di ritorno alla vita normale. Poi, ecco, anche poi dopo lei lo spiegherà, poi una protesi d'anca è per sempre oppure ha una durata, una scadenza e poi quali cose, questo lo diciamo nel finale, quali cose, possiamo fare tutto con la protesi d'anca, a meno alcune cose, ovviamente, abbastanza intuibili. Certo, certo. Diciamo che il paziente viene ricoverato dopo aver effettuato un pre-ricovero ospedaliero per far sì che appunto vengono espletati tutti gli accertamenti del caso, valutato lo stato metabolico del paziente, le eventuali patologie cardiache, si aggiustano e si resettono alcuni farmaci che magari possono complicare il post-operatorio. Dopo aver proceduto a questa, diciamo, screening, a questo check-up del paziente, si effettua il ricovero ospedaliero, il paziente rimane in clinica dal giorno 1 al giorno 3, al giorno 4 al massimo. Viene operato il giorno dopo il ricovero, il giorno dopo il ricovero appunto si procede all'intervento che tecnicamente dura 20 minuti, mezz'ora al massimo, il paziente va in reparto, il giorno dopo il paziente viene messo all'impiede dei terapisti, viene appunto stimolato a deambulare con un appoggio antibrachiale all'inizio e quindi poi dimesso in quarta giornata. L'intervento è in sedazione? L'intervento si fa in anestesia spinale, viene associata di solito a una sedazione per il paziente un po' più emotivo, il paziente un po' più si agita. Cioè il paziente non si rende conto, anche se non dorme, diciamo, però il paziente è sicuramente vigile per essere dato. È vigile anche se, beh insomma l'abbiamo provato un po' tutti qualcosa del genere, anche se sembra che l'intervento venga fatto ad un'altra persona, è alierante diciamo. Infatti, infatti. Però è una sensazione in fondo gradevole, come dire, non specivole. Di solito noi appena il paziente entra in sala posizioniamo un sipario davanti al paziente per evitare che lui si emozioni o vada in panico vedendo poi i movimenti dei chirurghi e del gruppo, diciamo, di sala che magari manipolando le sue arti lui non li sente e quindi può andare incontro a delle problematiche di ansia, così. Quindi il sipario lo mette al di là, è in protezione rispetto a questa sensazione di stress, quindi è abbastanza compiante. Il paziente possiamo anche, ecco qui vediamo ancora, però vediamo tra poco anche immagini di pazienti che cominciano a camminare, ecco. Il paziente viene messo subito in piedi? Appena dopo l'intervento, già in serata, appena facciamo il giro, il paziente già viene messo seduto e posizionato all'impiedi, sì. In piedi viene aiutato? Certo. I primi passi, però anche per un fattore psicologico, insomma. L'importante è avere anche un gruppo di fisioterapisti che seguono le direttive del chirurgo che appunto autorizza o meno già una diambulazione immediatamente. I primi movimenti, quindi degenze in ospedale abbiamo detto massimo tre giorni, quattro giorni. Questa giornata vanno a casa il 90% dei pazienti. Ecco qui vediamo… Questo è un accesso bikini, guardi, è proprio nell'inguiner, quindi non si vede la cicatrice, non si vede, non si vede, insomma, sì. E qui ci sono i primi movimenti. I primi movimenti che il paziente fa autogestiti oppure con l'aiuto del terapista. Vedete come appunto la struttura muscolare non essendo proprio incisa è già efficace nel impegnato postoperatore. postoperatore. Certo. Quindi abbiamo detto, ecco, la durata di una protesi, qui il paziente è stato, qui diciamo dopo forse un giorno, comincia già a muoversi da solo perché ha preso dimestichezza con i suoi movimenti. Esattamente, il giorno dopo. Il giorno dopo il paziente già è abbastanza autosufficiente. Noi utilizziamo a differenza degli americani un po' diciamo degli appoggi brachiali per permettere al paziente di non avere un carico immediato, anche perché il paziente è operato di anca non percependo più l'articolazione, come naturalmente si fa, potrebbe avere una deambulazione scorretta e caricare eccessivamente, quindi andando ad alterare un po' il recupero postoperatorio. Sì. Ecco, qui vediamo delle cicatrici proprio quasi invisibili. Minivasive, sono 4-5 centimetri al massimo di incisione. Quanto tempo dura, anche, come dire, anche per sempre, diciamo? Beh, diciamo che l'impianto protesico, diciamo su un paziente giovane, giovane adulto, o un sessantenne, ha una durata che comunque dipende anche dall'utilizzo dell'impianto. Se il paziente utilizza l'impianto magari facendo l'attività in bicicletta o facendo la corsetta oppure gestendo un'attività lavorativa molto intensa, le componenti vanno incontro a un'usura, perché sono componenti metalliche che sono contrapposte a una componente di polietilene, che sarebbe una plastica particolare. Quindi il polietilene nel tempo si usura. Bisogna anche avere la possibilità di gestire questo impianto posizionando le componenti in una maniera biomeccanicamente efficace, altrimenti c'è un'usura da LOAD, si chiama, cioè da supercontatto anomalo delle componenti. Ci sono diversi fattori che influenzano la durata. In questo caso verrebbe sostituita la protesi? Sì, sì, facciamo le revisioni tranquillamente, anche dalla stessa via di accesso. Come dicevo io prima, la via di accesso anteriore ci permette la revisione in maniera più semplice delle vie di accesso alternative, perché non dà degli esiti cicatrizziali che poi impedisce al chirurgo di accedere all'articolazione. Ecco, ci viene chiesto attraverso le email, insomma, la vita dopo l'intervento, com'è? È normale? Certamente ci sono alcune cose. E quali sono le cose che è meglio non fare? Non puoi fare. Credo prima uno sport da battaglia, insomma. Il sport di contatto sicuramente non si può fare. Il rugby non lo potete fare. Però una minima attività sportiva, diciamo, di un paziente che ha bisogno di fare un po' di aerobica per mantenere magari l'apparato cardiocircolatore in delle, lo si può fare. Si può fare un po' di tappeto, si può fare sicuramente una bella passeggiata lunga. Ma voglio dire fondamentalmente il paziente dal punto di vista lavorativo riprende al 100% tutte le sue facoltà. Dal punto di vista, diciamo, sportivo dobbiamo limitare un attimino gli sport di contatto rispetto all'attività di recreazione. Poi ci sono anche, diciamo, anche il sedersi, ha delle, diciamo, piccole limitazioni, è vero mi pare? Questa è la via di accesso posterolaterale, perché nel flessere l'anca, la via di accesso posterolaterale ha una completa apertura della capsula posteriore, sezione i tendini posteriore, quindi l'anca tende ad uscire. Se non viene fatta una buona cicatrizzazione, il paziente non è autorizzato a sedersi. Si rischia una lussazione dell'anca posteriore. La via di accesso anteriore questo non consente. Per esempio, sedersi sul bidet, ecco, che poi è una, come dire, anche per noi che magari non abbiamo avuto questo intervento, è già di per sé disaggero, impegnativo dal punto di vista fisico. No, con la via di accesso anteriore non abbiamo problemi di lussazione. Ah, questo è molto importante quello che le dici. Veramente la lussazione è l'ultimo dei problemi. Ma questo è un altro vantaggio, un ulteriore vantaggio. Per esempio, quello di sedersi, accavallando le gambe, bisogna stare un po' attento. All'inizio bisogna evitare, lasciar cicatrizzare un po' le strutture vicini, ori, all'articolazione, però alla fine si può fare tutto. Cioè, si può fare quello che uno sente di poter fare, le avverte limite, diciamo. Magari limitando un po' l'eccesso nei primi 15 giorni, favorendo proprio una piccola cicatrizzazione delle componenti, poi dopo il paziente riprende a fare tutto. E per concludere, dottor D'Ada Francesca, a parte, se vuoi le dico proprio che è stata una cosa molto interessante questo incontro che abbiamo fatto, perché siamo scesi proprio, siamo andati a 360 gradi. Ecco, diciamo, leggevo 400 mila interventi in un anno in Italia, è un esercito, e leggevo in aumento, perché? In aumento, arriveremo a circa il 200% rispetto a degli anni fa. Perché? Perché la via, diciamo, oggi il giovane, allora, oggi l'attività, diciamo, impegnativa del sessantenne è diversa da quella di tanti anni fa. Sì, certo. Oggi si arriva a avere 70 anni e avere un'attività dinamica molto più frenetica, e quindi l'usura delle attivazioni aumenta sicuramente, statisticamente, i casi di astrosi, sia dell'anca che del ginocchio. Sì, sì. Bene, Dottor Francesco, noi ci aggiorneremo presto su questi argomenti. Al prossimo argomento dovremo fare, ho letto che la protesi d'anca, ma anche quella del ginocchio, si fa in fast track. Sì, questa è una parola delle tecniche che usavano. Perché voi alla Salus fate, o se avete questo protocollo, che si utilizza in tutte le, diciamo, le migliori strutture in Italia. E premetto che il fast track è una delle componenti necessarie per far sì che il paziente possa essere operato bilateralmente in simultaneo. Sì, sì, è un protocollo che consente questa contestualità. Consente quindi un ridotto sanguinamento, un ridotto rischio di infezioni e tanti effetti positivi.